registrazione video full hd a 30 fotogrammi al secondo xiaomi mi note 10 con cinque sensori al posteriore da fino a 108 megapixel e effettuare uno zoom contro luce zoomato ritorniamo al campetto dal dispositivo sembra ottima la qualità del video anche la stabilizzazione perde un po con lo zoom ma è abbastanza ovvio soprattutto quando poi si tende un po ad esagerare andiamo fino al 6x va più che bene registrazione video full hd a 30 fotogrammi al secondo xiaomi mi note 10